Sono Nino Allone, radiologo presso l'ospedale Garibaldinesima di Catania, da poco ho diventato centro regionale di riferimento per le endometriosi. Sono entusiasta dei giorni vissuti qui a Bologna e ringrazio l'associazione APE per tutto quello che ha fatto. Mi porto in Sicilia un'esperienza senz'altro positiva, arricchita dal confronto con colleghi che in tutta Italia sono dei punti di riferimento e certamente metterò al servizio questa esperienza per i colleghi che lavorano con me e per le pazienti affette da questa malattia complicatissima. Grazie a tutti. Grazie a tutti.